Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Adesso tutti insieme, bambini, prendiamo il foglietto, c'è scritto preghiera dell'adesione. Decidiamo insieme questa preghiera come segno della nostra scelta di appartenere all'azione cattolica. Ok? Insieme. Signore, ti ringraziamo. E' potuto chiamarci con diverse vocazioni a diventare noi collaboratori nel disegno amoroso del Padre per la salvezza degli uomini che attraverso il sacerdote. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. di fare questo piccolo gesto di indossare le fempe come inizio del loro ministero. È una cosa che non mi piace fare, ma facciamo che un applauso. E ora insieme ai bambini prendiamo posto e viviamo la nostra celebrazione. I testimoni credibili, la nostra vita, i nostri dubbi, le nostre paure, i nostri desideri di bene, la nostra passione associativa. Offriamo tutto attraverso la bandiera dell'azione cattolica, chiedendo a Dio di trasformarlo in luce per il nostro territorio e per i nostri fratelli. Gesù, morto e risorto, non ci abbandona. È il Dio con noi che ci accompagna, che ci tiene per mano nell'avventura della vita, nell'impegno missionario. Il figlio di Dio passa per la croce e vince la morte. L'amore di Dio rivela la sua grandezza, la sua onnipotenza, nella debolezza e nello scandalo della croce. Chiediamo al Signore di accompagnarci nel nuovo anno che ci attende, aiutandoci a rileggere l'impegno missionario come l'impegno di cui si fa un povero per i poveri, debole per i deboli, umile per gli uomini. Chiediamo al Signore di subirci perché il nostro impegno missionario non sia una prova di forza, ma un anno di forza. Signore di subirci perché il nostro impegno missionario non sia una prova di forza, ma un anno di forza, ma un anno di forza, ma un anno di forza. Signore di subirci perché il nostro impegno missionario non sia una prova di forza, ma un anno 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 di forza. Signore di subirci perché il nostro impegno missionario non sia una prova di forza, ma un anno di forza.